buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati con uncharted 4 capitolo 10 ed è un po che non faccio uncharted sì avevo poca voglia questi giorni perché è un periodo scolastico che fa schifo perché 8 verifiche in sette giorni è una roba illegale anche in afghanistan quindi dove qua gta simulator col fuoristrada io non vedo un cazzo chi scende dal veicolo in corsa ma non sarebbe figo da fare non sarebbe male da fare una quanti probabilità abbiamo che il vulcano erutivo 99 su 100 si cosa cazzo ah uno storm di cosi non pensavo fossero delle pietre che levitavano in aria e quindi dove sto andando che sto cazzeggiando più caldo veramente non so dove andare come sì per poco cadeva ah il vulcano è quello là giusto quindi siamo nella parte giù sbagliata sbagliata giusta non lo so mi sembra giusta sbagliata su come non va su per le cose che fuoristrada di merda è ma ve regognatevi non potete fare fuoristrada che non va su per le montagne credo c'è la parte giusta ecco nel proprio nel siamo nella merda letteralmente ecco per fortuna ora supera il ponte pericolante e adesso però da quando passiamo noi adesso al centro vi ho detto io che pericolante e che adesso cade me lo porto una fortuna del porto fortuna o forse proprio il gioco che porta sfiga ancora siamo ancora nella merda come fanno ad andare avanti sto coso ma che quanto l'avete pagato l'avete assemblato su ebay cazzo ok risparmiare ma fino a un certo punto non va su non va su siamo nella merda 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 ah cosa ah su di qua si si ho capito anch'io adesso dobbiamo fare il giro giro d'argo guarda che palle ci sto perdendo la mano con ste roba oh finalmente che cazzissimo un altro ponte ah no è una roccia a casa scambio le rocce per punti oh sei tu che sei voluto che hai voluto venire qui ma dov'è che devo andare lì qua asso dove li vedi i pneumati mi sono bloccato quando l'ho urtato sono fatti di roccia qui qui che cavolo sono puretti occhio sii nemmeno una volta abbiamo abbiamo dovuto usare ci serviva adesso cavolo guarda che sterati che che guarda che roba aiii ok e dove ah si dice una strada ah non ce l'ho già andato suggerimento grazie saldi con l'auto sul pennello di qui dove qua ah no lì cazzo ah lì e non me lo vedevo si mi rappattavo ci saranno alcuno ce l'abbiamo fatta e adesso torniamo giù torniamo giù ah no è giusto giusto si si sa vedere nei giochi almeno forse non è che qua su non li hanno portati qui hanno messo una reglizio che dovremmo girare altre mille milioni di posti per poi vedere il tesoro che si sbriciola frutto le nostre mani qui si è un viaggio inutile ancora nella merda esatto ah non dobbiamo scendere oh che ci vado su all'aggitiva com'è che si scende dal veicolo così ah ce l'ho fatta ho capito ho capito saldiamo queste scale arancioni si ah però che grafica no per poco eh esatto i saltieri salivano tutto ora controlliamo un po' cos'è questo cosa ha capito ha capito bene abbiamo una cattiva idea ma che cazzo si sbagliato si sbagliato si sbagliato e che ne so puoi custodiare il segreto magari si sbagliato devono aver legato qualcosa all'altro ok legato qualcosa all'albero cosa potrebbero aver legato che è sto simbolo che insomma mi è scappato non si va su ah ho un'idea e se si sbagliato speghiamo tutto di qua non si fa eh non si passa infatti no ma piedi almeno che è sto simbolo scusa aspetta ok non ci ho capito niente quindi mi sa che deve venire su con la macchina eh mi tocca ascendere adesso eh aspetta qui lui ah ho capito che dovessi andiamo legato come non lo sai la taglia l'albero c'è già il simbolo quindi ha legato e adesso dovremmo poter giù l'albero quindi andiamo o giù noi o l'albero quindi si esatto ah devo cosa che devo fare ah devo salire devo salire o scendere? salire salire ma perchè l'abbiamo legato all'albero? visto salire berricello valeva la pena è solo una colline non ha ancora giustificato d'arte eh per ora no ma ha vinto una vantaglia ma non devi salire devi togliere ok poi potremmo proseguire ecco ok fermi secchio ok possiamo andare super di cuore e ce l'abbiamo fatta però non me lo aspettavo almeno ah però che vista è un sentiero abbastanza incasinato almeno qua in Italia non può cercare viva le sospensioni no 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 ecco ne sono accorto troppo tardi ok cerchiamo un'altra via però dai la mettiamo è stata bella qua tutto al GTA guarda che roba mi cerca di fare il giro largo così e non saltare giù come le tementi come ho fatto poco fa ah l'assicurazione sto coso spero di sì se no che cazzo che cos'è? oh ma dai però ah già lo sapevano ero dimenticato e chi vuoi che siano? no chi vuoi che siano? che cazzo ci spera? eh già non ce l'ho ancora visti quindi che vuoi fare? guidatevi di me ah no ammazzarli tutti investendoli o scendere? eh ok aspetta calcoliamo bene che magari finiamo come poco fa mi sa che... ah capito ok cerchiamo di... uno cerchiamo di non farci prendere per ora andiamo a sbendere su? che cazzo? non lo sapev... o si vaffanculo io scappo no 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 fuori strada di merda ma... ma come che le ruote ci sono spaccate? ok riproviamo senza far cazzate ok si ok ma... non è vero cazzo cazzo cecchini cecchini devi andatene da lì no ma dai no volevo stare qua a fammi beccare ma va bene anche io e ora come ne usciamo? prima pensiamo a come liberarci dei gorilla della croce ma dai ma... non è che tempo di... di pensare ma io smonterei cosa? ah c'è un cecchino avevo detto io aspetta 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 smontiamo qua e adesso andiamo fortivi se non vorrete stare qua come alimenti tanto spazio ce n'è quindi fortività ok vediamo bene chi possiamo uscire prima le statistiche indicano questo qua solo solo ma... controlliamo bene che non ce ne siano altri che guardano lui e poi loro ammazzano noi che ammazziamo lui quindi GRP veloce ok ah e non è che amato a prima accanto quello la... ma cosa fa quello ma? sta guardando di qua o di là? ok quello se ne sta andando allora ecco l'altro aspetta ne ho visto uno di là io due di là ma mi sa che sono altri ok contiamo bene quanti ce ne sono due questo dov'è che guarda questo? guarda di qua o... no si è rammentato perché stai guardando? va bene dubbio andiamo su che cazzo fai? ah si è guardando di qua su su c'è qualcuno mi sa di no sta nascosto ah ah cazzo 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 sta zitto sta zitto sta zitto ce l'abbiamo fatta mi sono cagato in mano no no io mi ero già visto morto in mezzo a a sette miglia proiettivi chi? vabbè la carabina o? ma si dal fucile è una roba in più non lo so non lo so vabbè si segna questa qua questa qua non è silenziata allora facciamo silenzio silenziosi e che nessuno dica niente ok? pistola raffica dove è una pistola raffica? ma perchè lei fa? dai ecco siamo sgammati non è stata un'ottima idea ah questa qua che ho sparato al colpio alla volta non mi piace perchè mirano a me? guarda sono scopertissimi sono scopertissimi mirano a me che figli della merda morto? eh magari ok voi non l'avete visto ma sono morto in modo in modo non dobbiamo premere non dobbiamo premere quel dannato pulsante ok? non fatelo aspettate dai dai c'era uno qua sotto io non sto cominciando ad aspettarlo eh dopo un po' mi scazzo anch'io ma dai qua ci siamo se saltiamo diventiamo un kebab non premere non premere ma perchè non possono fare tipo come dire dei fucili a pompa silenziati so che è una follia ma c'è già un po' a caportata le diminuiamo ancora di più ma ma le pistole che ci siamo portati dietro non potevano essere silenziate ok 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 un altro passo in qua un altro passo in qua ho detto qua qua vieni qua qua zitto va bene? zitto adesso io direi andiamo nell'erba alta c'è chi troviamo in pokemon e poi andrei qua e questi qua che questi camperoni qua danno parecchio fastidio parecchio vieni qua guardate almeno collaborano un po' ah no 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 non sta qua non sta qua mi fa schifo chi è che mi ha visto? ha visto un simbolo ah c'è uno sotto ma dov'è che l'hai visto? io non vedo niente ha visto oh chi è? rotoliamo intanto io giro intorno per non farmi beccare vai vai là gli posso attraverso i miei proiettivi aspetta spostati spostati ah e così dinamite ho fatto non potevo finiti? magari mi voglio c'era un camper qua sopra ah ecco e così dovevamo 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 per esporsi ma come li troviamo? aspetta aspetta fermo 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 grazie fermo morto però con una pistolina abbiamo giù un camper di merda, esci, 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 mi trovo, poetto, ai, 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 morto finalmente, ce ne abbiamo messo di tempo però eh, sembrano finiti, mi sembrano, ok questi qua sono finiti, io andrei di sopra per vedere se c'è un tesoro, è molto, probabilmente c'è, si sto perdendo tempo, non serve che me lo dici a te, ma ok che non devo platinarlo, e non voglio platinarlo, ma questo non vuol dire lasciarti scappare i tesori che hai sotto il naso, questa non mi piace, questa non è anche, mi tengo il mio fucile che è cazzuto e basta, qua, su, 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 ce la fai, ti serve una mano, qua non c'è niente, ecco, si è stato, mi vale la pena, andiamo giù, e adesso teniamo la macchina, ok la macchina, la macchina, aspetta, ah non puoi sempre premere, ma peccato, era divertente, dove abbiamo parcheggiato, ma sul serio, si dai, vale la pena, è forte come pistolina, perché non dico niente, ma eccola qua, finalmente, se non sbaglio, il ponte crolla, e dobbiamo agganciarci col, col, come si chiama, al qualcosa, al ponte, mi sa, mi sa, ecco qua il ponte, eh? Adesso dovrebbe crollare, ecco, ci appena qua, adesso dovremmo andare qua così, e chiudere, no aspetta, aspetta, facciamo anche di qua, ecco, così leghiamo tutti insieme, ecco, eh, esatto, 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 adesso tiriamo, tira, tira, un altro po', e da lì, ecco, geniale, comodo, vero? Non ero contrario al verricello, ero contrario a pagarlo una fortuna, ah, quanto può portare un verricello? Cazzo, ok di qua, che c'è meno fango, è meno fango un cazzo, o ce l'abbiamo fatta anche qua, ma magari? Ma perché in Rayf buona una fetta? Che che? basta, però, avete rotto le palle, il vulcano è là, sì, infatti, quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, dobbiamo trovare prima noi, e appena troveremo il tesoro, ce lo foglieranno da sotto il naso, perché guarda caso, o non lo trovano nessun tesoro, o lo trovano tutti nello stesso momento, sì, è una brutta cosa, è spesso che è così, a tenerti fuori, che cazzo, il maschio alfa è il capo delle bande rivali, non ho mai più visto la guardia, e basta, beh almeno, beh almeno così sappiamo dove sono, si, le sospensioni sono fatte di carta pesta, cazzo, non ne sono accorto, vabbè investiamoli, c'è l'auto sarà anche questo, l'hai pagata, l'hai pagata anche per investire, no? stai alto un cazzo, ormai siamo morti, ormai siamo potuti, fa un culo, tanto vale cazzeggiare, cazzo, 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 dai sta roccia di merda che mi ha bloccato, ormai sono morto, dai, non lo di se l'ho fatta, siamo scapati che fortuna ah già fermi ok no no se no finisce come poco fa e non è stato bello però mi sembra strano che aspetta, aspetta, ok, SF è libero il vulcano è lì no però se ne vuoi di tempo per arrivarci un po' una rottura esatto aspettate, controlliamo bene a quanto pare siamo arrivati per prima ah diamo un occhiato in giro e ripartiamo ponte elevatoio molto minimale ok giù ponte elevatoio significa che vuoi tenere la gente alla l'acqua o vuoi protezione però siamo a previ, non me lo aspettavo penso qualcosa qua, ovvio, ci sono però però la dinamite c'è adesso mi fa un culo il ponte elevatoio l'espressivo l'espressivo c'è un c'è una torre cerchiamo di andare sopra la torre fatto un altro simbolo però con un unicorno o cos'è? Dove sei? Dov'è? Ah, sono tornato indietro, cavolo. Ma cos'è che gira intorno? Dov'è Sam? Oh, dov'è? Vabbè o... mi piace. Già. Ma è passata qua, è un problema. Quindi non ho trovato niente. Cerco qualcosa? Sì, sì. Sì, ma cerchiamo questa cosa. Buon'idea. Qua giù c'è una porta fatta apposta e... no, questo non serve. No, non serve. Quindi ho su, oppure boh. E che ne so, come ci arrivo dai io. Dai, non è tanto ripida. Questo qua aspetta... non fa niente. Cosa è che faccio adesso? Non si può ruotare questa qua? Allora... no, è troppo lontana. Vabbè, ho... nel dubbio. No, non ci arriva lì. Vediamo. Ci dai di la renda. Quella? Ma non posso avvolgere il cavo? Vabbè... ci sospettavo, ma non c'avevo voler andare da su. Magari non trovavo niente. E come ci andiamo qua? Dai, levati. E come ci vado su? Cioè, io non vedo modo per andarci. Dai, guarda che roba. Ah sì, ma beh, ma c'è cosa è stato qua? E allora? Lo riconosci? Sì, sì. Enbon. Chi? Esatto. Ha chiamato tutti. Ma, sopra la torre. E grazie sul gel. So, lo so che è in cima alla torre. Ma come ci arrivo? Cioè, aspetta. Aspetta, sono qua per qualcosa questi. Mi sa che dopo arrivano. Mi sa. Ah, e che cazzo. Ce l'avevo davanti agli occhi. Di qua? E l'ho fatto milioni di volte, sta cosa. Dove sono? Speriamo che non si spacchi. Di qua? Poco. Ci è mancato poco, eh? Ragazzi, ci siamo arrivati. C'è una torre enorme, più grande delle altre. Dove? Ah, quella. Sparta. Ah, ci siamo arrivati. Malamente, ma... E' stato duro. Ho subito di peggio. Ce la fa... Ma, perché non si può stavo? Ah, non si è baggato. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Quasi arrivati. Un po' di qua. Fatto. E adesso, ecco la manuella. Non ho po' Ok. Non scomodatevi, eh. Ti penso io. Tutto io devo farlo. E sai come mai? Quegli altri li ho matati tutti io. Il punto è arrivato. Oio, lo sto tirando giù io. Ti ho detto, lo su, ti ho detto io che arrivavano, no? Aspetta, aspetta. Lo sanno. No, 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 tranquilli. Piano, 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 piano. Allora, non sanno che siamo qua. Giusto? Aspetta. Ecco. Se l'aspettate... Dovete aspettarvelo. Oddio, l'ulciso di stanza. Con... Con... Non è servito un cazzo, dai, amiciamo. Fermo, fermo, fermo. Stop. Morto. Ok, pensiamo di essere qua, eh. Aspetta, la Q. Se l'abbiamo fatta, che Q. Dove è la granata? Dove è la granata? Aspetta. L'ha fatto. Ehi, 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 ehi. Mi ha preso. Aia, ha fatto male. Ok, non possono più tornare indietro. Ok, è un po' duro quello qua, eh. Ok, ready shot. Un altro ready shot. Ehi, l'acqua mi serviva. Ehi, un attimo. Dai, io un attimo. Ti prometto che ti ha matto subito. Non si è contratta con questi qua. Dove va quello? Ma dove era? Mangia morti. Se non era per... Ehi, posso essersi spostare? Mi stanno sparando. Mi ha fatto un ruolo che... Due, che cavolo... Fagli un quickscop. Sì, ma dai, me ne sono arrivati 20 in tre secondi. Non ho fatto in tempo a pensare che... Me ne sono arrivati due da sotto. Cagazzo. Adesso dimmelo che ce ne sono altri, eh. E dove sono? È sempre bello fare Spider-Man. Scusa, altri sono... Ah, ecco. Ecco. Via. Spero di spostare di... Di cosa. Uno è morto, bene. Ma è un po' inutile dalla distanza, però... Però fa il suo. Ucciso. Ok, ecco, ecco, ecco. I fucili... Perfetto. Quello che... Quello che aspettavo. Ah, merda. Eh, devono stare fermi, però, sti qua. Tengamo là. Me l'ho ucciso. Morto. Dai, 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 dai. Morto. Dove è la grata? Non l'ho preso, ora. Morto. Non l'ho preso. Pensate... Hai ucciso? Dov'è? Morto, ok. Qua, qua, questo è un casino. La colonna sonora che ti dà il... Che ti dà il... Dopo quello per andare avanti. Beh, esci. Eh, sarebbe stato troppo bello che ne ero da qua, eh. E' che devo cambiare l'arma. Dov'è? Questo qua se ne ero uno che era morto. Vabbè. Questo è un Spider-Man di nuovo. Al capo il 47. Uno cambia la pistola. Ma che sia un po' silenziata questa qua? Tipo che non fa il casino, o? Dai, esci. Per fortuna. Sono finiti? Sì. Passiamo questo po'. Ok. Io sapevo che arrivavano. Quanto può pesare un... Un ponte elevatorio, dai. Vabbè, qualche centinaio di fili. No. Qualche. Ancora Spider-Man. Ma sì, stessa cosa. No, no. Prima cambiamo l'arma. Dopo andiamo. Ok. Non ce la facciamo con queste arme intercone. Ecco. Non facciamo un giro completo. Perché magari... Vedi che ce n'è uno che ha... Aspetta, questa... A capo il 47 cos'è? Ah, questa è rara. È rara. Cos'è? Ah, beh, il forza ce n'è uno solo. Abbiamo un'arma leggendaria. Ok, ora possiamo andarsene da qua? Che l'abbiamo fatta? Nella merda siamo di nuovo... Ah, però. Sì. Sempre a poter sfiga. Ci saranno a minimo altre dieci capitoli da fare. Wow, wow, wow. Wow, che cazzo. Tu, tu pensi che vada tutto per il verso giusto, eh? Invece... Eppah. Giù, ma non fa una piega come ragionamento. Fissa che al tempo... Sì, vabbè, al tempo. Mica c'eravano le macchine. Eh, già. Eh, mi sono smerdato. Dai, dai. Non è così ripida. Allora... Eh, no, 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 no. Non va avanti. Ci sono le scale. E andiamo super le scale. Ah, ci leghiamo di nuovo. E' tesoro. Ma dai! Come mi tocca tornare giù? E' per fortuna che gli hai detto no il vero... Il vero... Il vero cosa. Se no... A parte che non torneremo mai a casa con 200 milioni... Con 400 milioni. Neanche se il colpo possiedi un miliardo. Oh. Sa farei? No, no! Ma porca putta. Mi tocca girare la macchina. Sì, lo so. Pensi che non lo sappia? Oh. Che palle. Lo farei tutto io qua. Sti qua. Si fanno ammazzare. Bloccano i passaggi. E qua muoio solo io. E... A posto. E' a posto. Ora possiamo andarcene. Adesso è fatto. E' arrivato. Piano, piano. Ma se la fa. Oh, merda. Ma come, come? Scusa. E la... Ah, ecco. Ok, ok. Finché andiamo su. Va bene. Dimmi. Scusa. Che casino sta succedendo. Ok. Adesso. E' porta, porta. vuoi esserti al posto mio? Ti sembra facile? Bene. Ok. Dobbiamo solo sperare. Eh, comincia a spiegare che è meglio. Ok. Speriamo che non caschi l'albero. Oh. E' divertente, no? Sì. Ebbene, parlerò con il mio frizzacero. Sì. Divertente va per come... Sì, tutto sotto controllo, sì. Con sotto controllo come le vasi un'fiscale in Italia. Bene, accrappatevi. Eh, eh. Ma... Quando lo sapevo? Ora... Ah, no. Pensavo che si spaccasse in... Ci siamo. Ma che tesoro è tesoro. Ma sì, siamo sicuri che sia qui. Io pensavo di andare dentro il vulcano, cazzo. Invece no. Da qui non si passa. Da qui non si passa. Distrutta, sigillata... No, non si passa. Secondo voi si passa. Tesoro. Ne ho trovati tre in totale. E sono tipo 100. Infatti io manca... Buh. Non penso neanche che siamo a metà. Sì, lo so, silenzio. Ma come si posso farci? Ah, fortuna. Per fortuna. Non avevo perso l'esperante. Sam, dammi una mano. Eh, già. Ah, qual era tu? Dai. Un altro. C'è dopo tre colpi. Obbligatorio che casca. Oh, la buona vecchia torcia. Così, vien qua. Una dispensa, pare. Pare. Qui dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Sì. Siamo sempre due persone. Cosa? Un muro... Un muro... Bene. Andiamo un occhiato. Sì, ma con un calcio devo andare giù. Ma non va giù? Sì, è murata, ma... Non penso... Non penso... Ah... Un lancio senza ripegno, così. Ah, un lancio a granate, oh, madonna. Fatto. Ma che però di tutto? Che già è roba... Bastante vecchiotta. Di buti un mare dell'esplosivo... Cosa viene fuori? L'altra monopola. Vai, 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 vai. Cosa aspetta? Oh, qua c'è più veloce. Aspetta. Come ben giapè. È già andato. Adesso si chiude il cancello. Ma in teoria vorrebbe chiudersi. Mmm, questo è un buon indizio. E scale a chioccio la mannaggia. A voi. C'è, la posta in gioco. Oh, muore. C'è. È peggio della morte. Quello che li fanno, se no... Ok. Ah, uno spazio un po' strettino. Dai, non è strettissimo. Wow. Ah. Arriviamo. Trovate qualcosa di utile? Sanismo. Vieni a vedere. No, è Sanismo, sì. Eh, esatto. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo Sanismo. Qui c'è il buon Evere. Tama Stio. E questo è di Adam Bellridge. Qui c'è Joseph Farley. E questa ricettura. Ah, però. Pum. Un bel festone. Un bel festone. Dimmi, qual è il trucco questa volta? Dobbiamo premere un pulsante? Tirare? Forse... Forse un braccio? Proviamo. Ci siano avanti così. Ragazzi. Quando avrete finito di molestare il povero Sandino, c'è qualcosa che dovreste vedere. Cosa? Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Day. Questa è una mappa, signore. Vittor, sei un fottuto genio. Eh, Nate? Un genio. Sì, sì. Sì, sì, vabbè. Quindi se noi siamo qui, Dobbiamo andare. Esatto. Ok, allora gli altri sigilli devono essere le torri dell'epoca di Evere. Eh? Beh, insomma, il tesoro sarei l'una di queste, no? Eh, sì, ma quale? Appunto. Io conto 12 torri. Eh, Vittorio? Non c'è mica voglia di fare il suggerire? Non ha iniziato a fumare sigaretta, vero? Ma quanto pare non siamo i previ. Oh, cazzo. Cazzo. Ecco. Lo sorpresi io. Ho un fottuto lanciagranate a figlio dello schifo, eh. Eh, venite qua adesso. Mi sfido, figlio della merda. Dai, dai. Vite adesso con la lanciagranate, eh. Ok, l'ultima mossa è stata un po' avventata. Vai. Vai. Ora che ho lanciagranate, vai un po', eh. Ok, ho finito lanciagranate. Dai, però, mi stavo ponendo un fuggito. Giù. Oh. Eccolo, la vostra un fuggito. Morto, per fortuna. Vedo. Quanti sono? Quanti sono? Come fa essere morto? Sono tantini. Sono tanti. Sono tanti. Oh, ho fatto un volo di quelli. E lo spettone 12 come si chiama? Oh, no. Ahio. Oh, 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 oh. Non, non farlo più. Ma sì, qua sono ingarazzati, eh. Oh, cosa vuoi te? È uno scontro a dare, mi pare. Dove? ma io non come faccio e scappa e scappa ecco no ce l'avevo vabbè ma vaffanculo ho ancora lancia granate non uso lancia granate non devo usare lancia granate usiamo i momenti criticità e questo non è un momento di criticità quello rosso ecco un altro è morto è già morto per fortuna mortissimo con un mezzo di mezzo di mezzo di mezzo di mezzo di mezzo ho finito le munizioni no non prenderlo non prenderlo ah le munizioni ho preso ok ecco questo è il momento di criticità ancora in piedi dopo un lancia granate ok fatto quello lì è morto un po' più in testa questo qua è un alleato si ma guarda ma perché mirano a me cazzo madonna neanche neanche fossi da solo ah finiti spero di si continui finito dobbiamo cambiare arma questa cos'è i partori mi parla di sicuri granata questo è un no il k47 no eh no non sono forti che altro perché fai un casino ok adesso così cos'è in mano cos'è? siamo in ritardo esatto quale? ma perché devi portare così tanta meglio due che dodici giusto o non saranno così lontane una per un'altra sono io che ho visto male? siamo costretti a no non ha detto sì ma sì tanto tanto o muoviamoci o lo ammazzano o lo ammazzano a casa quindi devi solo scegliere come muovire nascosto in bella vista cosa? è quella perché non dovrebbe essere una vespa? oh mio dio già che mercato pieno di cattate e robe varie non serve che ve lo dico giusto? ma ci sono due vespe comunque vabbè finiamo qua il video e ci vediamo al prossimo capitolo che non credo che lo farò adesso vabbè ci vediamo al prossimo video continuate a seguirci e ci vediamo al prossimo video